Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torneamo a parlare del duplice omicidio, ieri una fiaccolata per Sara e Brunetta. Un corteo lungo e silenzioso ha attraversato la città di Arezzo per ricordare Sara e Brunetta, uccise dal marito di Sara la sera del 13 aprile scorso. Le due donne, Sara Ruschi di 35 anni e la madre Brunetta Ridolfi di 76 anni, sono state uccise da Javadi Sham di 38 anni con un coltello da cucina davanti ai figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Siamo qui per dire questo, siamo qui per dire che siamo sdegnati ma che siamo anche vicini e che nel nostro silenzio, nel nostro lavoro ci prenderemo cura in un grande abbraccio di comunità verso chi è rimasto. Ad organizzare la fiaccolata, il centro antiviolenza pronto donna, assieme al quartiere di Porta del Foro e poi si sono uniti anche gli altri quartieri della giostra del Saracino. Dopo il Covid abbiamo assistito a un escalation della violenza, ad Arezzo un fatto, Arezzo città intendo, un fatto così grave non era mai successo e mi rivolgo alle donne che non trovano la forza di reagire, che la trovino, ad Arezzo c'è un centro antiviolenza che si rivolgano a persone formate, c'è una rete antiviolenza, ci sono le istituzioni, si sentono sole ma non lo sono, noi ci siamo. In oltre 500 hanno camminato silenziosamente per le vie della città, dalla sede di pronto donna fino all'abitazione delle due donne in via Benedetto Varchi. Quello che mi viene da dire anche proprio da pronto donna è chiamate, chiedete aiuto perché l'aiuto c'è e si può fare, si può dare, non sono sole queste donne, non siamo sole. Qualsiasi cosa succeda, una litigata o uno schiaffo, denunciate e andate a centri. Ai centri che vi possano aiutare, da sole non vi potete aiutare. I funerali di Sara e Brunetta saranno in Duomo alle 15, per Arezzo il 21 di aprile sarà lutto cittadino. Io sto qui vicino, quindi proprio accanto a casa, che è il luogo sicuro e questo dovrebbe essere per loro, per quei bimbi, dovrebbe essere il luogo sicuro che succedano ancora queste cose. E' un'assurdità, quindi questo è semplicemente un simbolo, essere qui è un simbolo. Io sono desolata. Ed è stato proclamato il lutto cittadino domani in occasione dei funerali. Si invitano gli esercizi commerciali a sospendere le attività e abbassare le saracinesche dei negozi durante la celebrazione delle sequie che si svolgeranno in cattedrale. E' ancora cronaca in città, c'è stato un nuovo arresto per droga, in manette è finito un 27enne. Nascondeva dosi di cocaina ed eroina in un calzino, già suddivise in dosi e pronte per essere cedute, ma è stato beccato dai carabinieri e per questo è finito in manette un 27enne. L'uomo da qualche giorno era finito nel mirino dei militari, che proprio nel corso di servizi di osservazione nel centro storico di Arezzo lo avevano notato muoversi ai piedi nei vari luoghi frequentati da tossicodipendenti. I militari hanno così deciso di perquisirlo e all'interno della tasca del giubbotto gli hanno trovato 40 dosi di stupefacente tra cocaina ed eroina, a volte in un calzino da uomo. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 27enne, qui sono stati sequestrati strumenti utilizzati per il confezionamento delle singole dosi, tre telefoni cellulari e due laptop, dispositivi elettronici, su cui adesso sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Il presunto pusher si trova attualmente in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Due casi di truffe in Valdarno scoperte dai carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Le indagini sono state portate a termine dai militari della stazione di Montevarche e di Castelnuovo dei Sabioni. Nel primo caso, vittima del raggiro, una sessantenne che si era imbattuta nell'inserzione in un social di un furgone per il quale venivano richiesti 500 euro di acconto dopo il bonifico dell'inserzionista, però si sono perse le tracce. Gli investigatori, dopo accertamenti elettronici e bancari, sono riusciti a risalire all'identità del truffatore, un 45enne bresciano che è stato denunciato. Analogo all'altro caso, sempre una vendita online nella stessa piattaforma, diverso solo l'oggetto della vendita, un generatore di corrente elettrica. Dopo il bonifico, anche in questo caso, dell'inserzionista si sono perse le tracce e la vittima non si è vista recapitare nulla. Per questo raggiro è stato denunciato un uomo con precedenti residenti in Campania. E la polizia, invece, di Arezzo, ha arrestato un giovane trovato in possesso di banconote false. Affermarlo mentre transitava nei pressi di via Pizzuto, è stata la volante che ha controllato un'auto in sosta e i suoi due occupanti sono apparsi particolarmente insofferenti all'accertamento, in particolar modo uno dei due. In una tasca del suo giubbotto, i poliziotti hanno poi trovato 8.900 euro suddivisi in 178 banconote da 50 euro che sin da subito sono apparse false per lui, quindi sono scattate le manette. A Cortona, invece, la polizia municipale ha ritrovato un'auto, una Mazda, che era stata rubata lo scorso febbraio nel comune di Chiusi. L'auto è stata ritrovata nei pressi della stazione ferroviaria di Camucia in buono stato. Dopo i rilievi di polizia giudiziaria, è stato contattato il proprietario al quale nelle primissime ore di questo pomeriggio è stata riconsegnata la vettura. E adesso torniamo a parlare dell'83enne, scomparso ormai da giorni alla chiassa, proseguono senza sosta le ricerche. Ancora una giornata di ricerche ed ancora ore di apprezzione per Bruno Albiani, l'83enne del quale non si hanno più notizie dallo scorso 15 aprile. In azione adesso anche le unità cinofile della Guardia di Finanza. L'allarme era scattato lo scorso sabato alla Chiassa Superiore. L'anziano aveva detto di voler andare a cercare a Sparagi. Poco dopo avrebbe chiesto aiuto con il cellulare dicendo di essersi perso, poi più nulla. Immediata l'attivazione dei soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Arezzo nei pressi della chiesa della Chiassa hanno attivato il posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Nelle ricerche è stato impiegato anche l'elicottero Drago. Sul posto polizia, carabinieri ed associazioni di volontariato che hanno setacciato palmo a palmo le aree boschive limitrofe alla frazione sino ad arrivare al chiaveretto. Ricerche purtroppo ancora senza esito. Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Romana all'incrocio con via Fratelli Rosselli in gravissime condizioni. Un uomo di 80 anni che è stato investito da un mezzo mentre si trovava in sella la sua bici. L'anziano, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito alle Scotte di Siena in codice rosso sul posto Misericordia di Subbiano, automedica di Arezzo e i carabinieri per i rilievi di legge. Voltiamo pagina. Il traffico ferroviario toscano oggi in Attilta a causa di un carro merci riragliato alla stazione di Firenze e Castello. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se sono stati abbattuti pali e tralicci che reggono i cavi per l'alimentazione elettrica dei treni. Inevitabili dunque le ripescussioni anche sul traffico ferroviario a retino. I pendolari diretti a Firenze questa mattina hanno dovuto fare conti con ritardi e cancellazioni. E adesso voltiamo pagina per parlare di Oro Arezzo. È iniziato infatti il conto alla rovescia per l'edizione 2023. Manca meno di un mese all'edizione 2023 di Oro Arezzo la fiera internazionale della produzione orofa ospitata dall'Arezzo Fiere Congressi. Giunta la 42esima edizione la manifestazione in programma dal 13 al 16 maggio si appresta ad ospitare 350 buyers internazionali in arrivo ad Arezzo da 45 paesi tra i principali mercati di sblocco del settore orofo gioielliero italiano con una forte presenza anche di retailer provenienti da Nord e Sud Italia. Si rinnoverà anche il layout espositivo per rilanciare la centralità della manifattura orofa agli espositori in crescita del 15% rispetto all'edizione dell'anno scorso si distribuiranno all'interno del quartiere fieristico a retino secondo un nuovo percorso di visita. Arezzo si appresta dunque a brillare della sua luce più bella provando a lasciarsi alle spalle un periodo difficile con i tanti colpi messi a segno in importanti realtà industriali del territorio. Proseguono le attività legate alla riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti ad Arezzo. Sei Toscana sta infatti posizionando ulteriori 98 postazioni di raccolta d'accesso controllato dove sono ancora presenti vecchi cassonetti. Tutti i contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e in futuro permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell'effettuare la raccolta differenziata. E adesso parliamo invece degli amici a quattro zampe questa mattina il canile comunale gestito dall'EMPA una nuova donazione da parte dell'amministrazione comunale a favore delle colonie feline. 50.000 pasti per i gatti delle colonie feline una nuova distribuzione la sesta da parte del comune di Arezzo in collaborazione con il canile municipale gestito da EMPA. Noi abbiamo 210 colonie feline ringraziamo i custodi delle colonie perché veramente hanno un grosso supporto e tengo a precisare che l'amministrazione comunale molto attenta e sensibile ai bisogni di questi nostri amici animali tanto che il nucleo operativo della nostra polizia municipale è stato elevato da 2 a 6. Nei prossimi giorni le custodi potranno ritirare al canile il cibo in quantità proporzionale ai gatti genziti. È un gesto importante questo molto perché è di unione appunto e di sostegno alle gattare anzi alle referenti di colonia che veramente si adoperano come noi volontari ci adoperiamo qui per il canile loro si adoperano anche loro sul territorio quindi avere anche un piccolo sostegno fa tanto. Fondamentale resta poi l'impegno sul fronte sterilizzazioni. Le sterilizzazioni finalmente cominciano a funzionare dobbiamo deve essere ancora limato diciamo un percorso piacevole con l'ASL però riusciamo stiamo riuscendo diciamo con l'impegno dell'ufficio ambiente stiamo riuscendo a snellire un po' quella che è la burocrazia perché siamo passati da una diciamo anarchia di prima forse a un po' troppo diciamo burocrazia che con il gatto randagio non è possibile rispettare il gatto è randagio per natura quindi è difficile che lui poverino possa essere puntuale alle 8 la mattina anche se noi siamo disponibili ad accoglierlo il giorno prima un'altra storia quattro zampe una famiglia di cagnolini che adesso cerca famiglia loro sono Sara mascia budino ed iride sono quattro cucciole in cerca di famiglia e arrivano da borgo san lorenzo dove sono stati trovati in stato di abbandono assieme alla loro mamma erano diciamo che tenuti all'interno di un campo da soli sono stati così sequestrati ed affidati alla pensione per animali in nico's dog village quando avevano solo qualche giorno noi abbiamo dato la disponibilità per tenerli fino al momento in cui appunto poi non potessero essere presi dalle nuove famiglie e infatti sono qui da noi da circa due mesi e mezzo e adesso sono pronti per trovare casa sono dei cuccioli fantastici e sono molto socievoli sono assolutamente amorevoli dolci hanno tanta voglia di giocare per i quattro cuccioli e per Kira la mamma adesso si cerca una famiglia sono qui da noi da circa due mesi e mezzo e adesso sono pronti per trovare casa sono dei cuccioli fantastici sono molto socievoli sono assolutamente amorevoli dolci hanno tanta voglia di giocare e anche la loro mamma è fantastica una canina molto molto intelligente loro hanno sicuramente bisogno di persone che sappiano gestirli volesse adottarli può rivolgersi a voi si controllo pre post affido un controllo pre post affido si cerchiamo una famiglia che sia disponibile a questo e c'è l'obbligo della sterilizzazione sia per si abbiamo tre femmine e un maschio inizia il acconto alla rovescia per l'edizione 2023 del maggio castiglionese con un ricco calendario di eventi presentato questa mattina il cartellone sarà la sintesi delle diverse realtà che rappresentano la vitalità del territorio dal mondo dell'associazionismo a quello delle imprese passando per l'universo dei florovivaisti che contribuiranno ad impreziosire alcuni angoli cittadini ha spiegato il vice sindaco con delega alla promozione turistica Davis Milighetti l'apertura della manifestazione sarà caratterizzata tra il 29 e il primo maggio dalla presenza della fiera campionaria e da quella agroalimentare tanti poi anche gli eventi sportivi che si susseguiranno nel mese di maggio e adesso ci spostiamo in Valdarno a San Giovanni Valdarno dove sarà Giobbe Covatta a chiudere la stagione teatrale 2023 del teatro Masaccio l'appuntamento è per domani alle 21 l'attore scrittore umorista commediografo attivista e politico italiano porterà in scena a 6 gradi uno spettacolo dove comicità ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica apriamo apriamo la pagina dedicata allo sport dopo quasi un anno di assenza Matteo Cutini ha indossato nuovamente la maglia dell'Ames Scuola Baschettarezzo sul parchè della Mens Sana Siena realizzando nove punti che hanno contribuito al successo amaranto della scorsa domenica Cutini sarà un tassello importante per coach evangelisti in questo finale di stagione per aiutare la squadra ad ottenere il massimo risultato possibile da un campionato molto equilibrato e che si appresta a vivere la sua fase decisiva e saranno invece due giornate ricche di gare per tutte le età lo stadio di atletica attenti domenica 23 e martedì 25 aprile sono in programma una serie di manifestazioni organizzate dall'Alga Atletica Rezzo che coinvolgeranno centinaia di atleti dai più grandi degli assoluti ai più piccoli dei pulcini con un confronto nelle diverse specialità di velocità salti e lanci i principali riflettori saranno orientati verso il meeting assoluto su pista in calendario per la festa della liberazione che configurerà una gara di alto livello agonistico con protagonisti da tutto il centro Italia questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti